Luca Pasquale Medici nasce a Bari il 3 giugno 1977, è alto 1 metro e 73 centimetri, comico, musicista, attore di successo, è diventato famoso grazie alla sua canzone Siamo una squadra fortissimi durante i mondiali del 2006 e con i suoi film comici che hanno sbancato al botteghino. Ecco 5 cose che forse non sai su Checco Zalone. Il suo nome d'arte vuole ricordare l'espressione barese Checco Zalone, che significa Che Tamarro. Ma dai? Ha conosciuto la compagna Mariangela Eboli quando nel 2005 lavoravano in un locale dove lui suonava e lei cantava. Ma dai? Il padre era un agente farmaceutico e la madre una casalinga. Ma dai? Gennaro Nunziante, che diventerà poi il regista dei suoi film, dopo un provino gli chiese, ma ci fai o ci sei? Ma dai? Ha una laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Aldomoro di Napoli.